Allora è stato un incontro chiarificatore perché purtroppo il problema del punto del pescato è un problema molto vecchio qui che è stato risolto sempre in modo temporaneo e mai definitivo. Noi adesso abbiamo in qualche modo cercato di individueremo adesso nel periodo temporaneo che il mercato qui è stato allocato al parcheggio marinai d'Italia di trovare un punto anche per l'oro per la vendita. In più stiamo cercando di ripristinare proprio il vecchio box presente nel mercato per permettere ai pescatori di tornare a quello che era il loro posto adibito quindi alla vendita all'interno del mercato offrendo così alla popolazione la possibilità di comprare del pesce fresco anche proprio nel punto vendita del mercato. Un incontro quindi proficuo? Sì proficuo. Ci siamo chiariti e quindi da parte dell'amministrazione c'è sempre stata un'apertuna nei loro confronti cercando di risolvere i problemi che purtroppo sono vecchi e che a lungo andare sono sempre diventati più grandi di quelli che potevano essere all'inizio. Prima dell'incontro sindaco una polemica con l'associazione Noi Siamo Nessuno che vi accusa di non avervi voluto incontrare. Perché? Noi siamo chi? Noi siamo? Nessuno. Ah, quell'associazione, quel manipolo di ragazzi che per di più la maggior parte non sono nemmeno dell'isola d'ischia che non riescono a trovare una loro identità da dove provengono e vengono qui pensando veramente che questa è terra di nessuno. Si trattava di fare un incontro con i pescatori, non riesco a capire che cosa c'entrano loro con i pescatori, probabilmente questi ragazzi vogliono diventare protagonisti, ma per diventare protagonisti della vita del paese, della vita sociale e politica bisogna candidarsi alle elezioni. Sia uno viene legittimato, allora vuol dire che diventa protagonista della vita politica del paese. Questi invece tendono soltanto di mettersi in mezzo, di prendere una loro visibilità con delle proposte che sono addirittura a volte proposte che non stanno né in cielo né in terra e addirittura pensano veramente che le cose si possono fare senza il rispetto della legge. Grazie a tutti.